Presidente, è un muro lucano e tutta la Basilicata è in festa per il suo padrono, San Gerardo Maiella. Si rinnova quindi l'importanza di promuovere queste festività religiose come segno di identità del popolo? Certo, come singolo di identità, ma sono delle manifestazioni molto importanti per il popolo, perché sono delle manifestazioni di aggregazione di gente che crede, soprattutto la speranza di un mondo migliore, quindi di una Basilicata migliore. Quello è il compito delle istituzioni, portare avanti il programma che c'è in atto e avere anche la benedizione di San Gerardo come è avvenuto ieri a Piggiano. Credo che sia molto importante perché la gente deve avere fiducia nelle istituzioni, ma deve anche avere la voglia e soprattutto la speranza di una regione migliore. Noi il nostro compito come regione lo conosciamo bene, faremo di tutto e continueremo a fare di tutto per l'interesse dei cittadini e credo che queste manifestazioni di aggregazione di popolo sia una testimonianza reale dell'attaccamento del popolo al territorio e a chi protegge il territorio, che sono i santi come la Madonna di Vigiano, come il santo che oggi abbiamo venerato e che credo sia molto importante per il proseguo delle attività che verranno svolte nel corso dell'anno. Grazie a tutti!